Io invito tutti quelli che stanno guardando questo video a contribuire alla campagna di raccolta fondi per Giacomo Ferrante e di diffondere anche la notizia tra i parenti, conoscenti, gli amici, gli appassionati di cinema, perché stiamo parlando di cinema, di cinema vero, di cinema fatto nella strada, fatto da un ragazzo che negli anni 90 era qui proprio a due passi dal piccolo cinema nel quartiere di Falchera e ha fatto della Falchera il centro della sua visione estetica anche del mondo e del cinema e credo che sia importante oggi che lui ha deciso di riprendere la camera in mano, di continuare questo percorso iniziato diversi anni fa, sia importante sostenerlo con tutte le forze che abbiamo. Vai Giacomo!